Una volta incastrato dai poliziotti, gli avrebbe stretto la mano e si sarebbe complimentato con loro. Questa volta ho perso io, siete stati più bravi di me. Tutto era iniziato nel marzo 2022, quando un paziente del reparto di alisi dell'ospedale Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi era stato derubato del portafoglio con contanti e varie carte di credito. La mala scoperta però non era stata fatta nell'immediatezza, quindi in ritardo nel blocco delle carte. Erano stati così prelevati oltre 6.000 euro in contanti ed addebitati circa 1.200 euro per l'acquisto di uno smartphone di ultima generazione. Dopo la denuncia, immediate le indagini coordinate dalla Procura di Arezzo della sezione anticrimine del commissariato di Montevarchi. Grazie alla visione delle immagini delle telecamere di video sorveglianza, la consultazione dei tabulati telefonici e il report dei movimenti bancari, i poliziotti sono riusciti ad individuare il responsabile, un 32enne originario dell'Est Europa con numerosi precedenti penali. Nel corso della perquisizione domiciliare effettuata a Perugia, gli agenti hanno trovato il cellulare acquistato con le carte rubate ed altri elementi che lasciavano pochi dubbi sulle sue responsabilità. Per il 32enne è così scattata la denuncia per ricettazione.